Musica Carica dei 500 e passa per questa 32esima edizione della paratonina d'inverno La grande soluzione agli organizzatori E come ci sarà il giro Partiti! Si è udito lo sparo in questo momento Partita dunque la 32esima edizione della paratonina d'inverno Tanto, tantissimo anche il pubblico ha schiepato alla partenza E speriamo che la giornata gradevole porti anche tanto pubblico all'arrivo Come comunque è sempre stato anche negli anni precedenti Dove però il freddo magari ha scoraggiato qualcuno Oggi giornata quasi primaverile Vediamoli questi atleti Riconosciamo Gardellini, Vascoviuk, Michele Bedin, Marina Zanardi Vestita di nero a quel Petra 975 Davvero uno spettacolo vedere questo serpentone colorato Che si allunga lungo via sgarbata Solamente qualche centinaio di metri dalla partenza Buona gara a tutti! Riconosco anche Silvia D'Array un po' intruppata E sentite l'entusiasmo mentre già si sta sgonfiando L'arco di partenza Buona gara a tutti! Ci vediamo il primo passaggio dopo circa 7 chilometri e mezzo Abbiamo anche Mascellani qui in mezzo Abbiamo riconosciuto anche Stagli, Massimo Corà Con tutta la truppa del gruppo Corri Ferrara 97 i partecipanti Pepe non è ancora stanco È partito per la mezza maratona E se la fa tutta 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 Oh yeah Quunti vedrai Stamattina c'è acqua alta Eh qua va bene Un po'穸go però Non so Non hai caldo Ho magari casa Però Però Sì Sì! 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 Dai Bárbara sei lento! Sei molto lento! Fri avanti! Dai dai! Sì! Sì! Pronto! Pronto ragazzi la grappa! Ah, la mina tirò da volta che da con la mia! Pronti la grappa! Era solo la mina! Ciao! Eccola! Graffina pronta! Graffina leggera! Graffina leggera! Pronto! Voi, Mirko! Voi, hai chil'ho! Pronto! Grazie! Grazie!